Sesta giornata Super Cup, Bokai Junior contro incurabili. Andiamo da qualche protagonista, lei scusi, lei mi scusi, quanto state? 5 a 2. 5 a 2, partita già chiusa o c'è possibilità che possano recuperare? No, cerchiamo di chiudere la partita nell'altro tempo. A più presto. Ho capito, va bene, in bocca al lupo. Perché sei risconsolato? Perché sei risconsolato? Non te ne fotti che stai perdendo. Ma non so. Ah, va bene, va bene, in bocca al lupo. Siamo qui con Campolongo e Cagliazzo, partiamo da Campolongo, migliori in campo nella partita tra incurabili e Bokai Junior, sei a sei il risultato finale, un solo gol. Allora perché migliori in campo Campolongo? Noi la partita abbiamo iniziato bene, però un po' abbiamo sbagliato in difesa e in attacco dovevamo fare più gol, ci abbiamo mangiato qualche gol. Al centrocampo eravamo molto stanchi comunque, loro hanno avuto l'occasione buona per segnare, ne hanno approfittate e hanno fatto gol. Ho capito. Va bene, sentimi, vuoi dedicare almeno il gol? Sì, a tutta la squadra, che questo torneo, questo pareggio non importa, la prossima dobbiamo vincere, perché noi dobbiamo vincere, questo torneo lo dobbiamo vincere. Ho capito, va bene, allora ci vediamo alla prossima. Cagliazzo, invece tre gol tuoi, nonostante tu sia difensore, non sono bastati alla vittoria, che cosa è successo? È successo che all'inizio c'è stato desideri, che si è sentito male in campo, è dovuto uscire, poi una squadra molto, diciamo, rimaneggiata, ci è mancato Furia, Lanzaro, e diciamo abbiamo dato il massimo, anche se abbiamo iniziato molto male. Sì, comunque avete giocato contro una di quelle che sta dimostrando tra le squadre più in forma, compresa la vostra poi naturalmente, quindi un risultato, nonostante siate stati rimaneggiati, è tutto positivo, no? A parte la partita con il Seleção, ci aspettano, diciamo, tutte le partite, quasi sulla carta, molto più semplici delle loro, che dovranno ancora giocare contro il resto. Mi vuoi dedicare gol, prestazione e premiazione? Premiazione. La premiazione che ti ho fatto. Ah. Non me le vuoi dedicare? Mi dedico a Furia e Lanzaro, oggi assento, e al mister Desideri, che è mancato a causa del male. Va bene, allora ci vediamo alla prossima, ciao. Grazie.